Ben ritrovati sul canale dedicato al mondo del calcio femminile, a questo spazio interamente riguardante la Serie B, il campionato cadetto femminile. Ci si chiedeva prima di questa settima giornata se e quanto sarebbe durata la fuga a Braccetto di Lazio e Ternana che si incontreranno nello scontro diretto più atteso soltanto a gennaio. Bene, la risposta è arrivata immediatamente, la prima a cadere è la Ternana che dopo sette vittorie consecutive, anzi dopo sei vittorie consecutive viene pesantemente sconfitta sul campo del Parma, una Ternana abituata a segnare goleade, stavolta la goleada l'ha subita, un secco 5-2 da parte della formazione parmense, subito in vantaggio, sempre in fuga, una doppietta di Tui, non è bastata la Ternana a rimontare, uno svantaggio che è stato sempre ampio dai due gol in su per la formazione parmense, che con i sette gol marcati al Verona la settimana scorsa e i cinque marcati alla Ternana questa settimana, si conferma formazione in grado di poter puntare ai quartieri altissimi della classifica. Al primo posto dunque della graduatoria di Serie B resta la Lazio, una Lazio che grazie a una doppietta di Goldoni, un gol per tempo, ma per la verità già nel primo tempo Goldoni era andata vicinissima al gol in più riprese, prosegue la sua fuga e la sua imbattibilità sul campo della Freedom Cuneo, non basta una prestazione ordinata alla neopromossa, la formazione che da quest'anno è in Serie B a arginare una squadra come quella delle Aquile, sempre molto risoluta in fase offensiva, dunque Lazio alla ottava vittoria consecutiva e decisamente in piena tensione verso quella promozione che è sfuggita lo scorso anno. In seconda posizione ad agganciare la Ternana che è caduta è arrivato il Cesena, il Cesena è una formazione veramente molto interessante che si sta confermando in grande salute, nonostante la sconfitta di Coppa Italia contro la Roma, torna la vittoria, lo fa proprio a Roma contro la Res, un 2-1, anche in questo caso in rimonta con due gol in rapida successione, un Cesena che continua a dimostrarsi estremamente solido, con idee chiare, un Cesena anche molto pragmatico, sesta vittoria consecutiva per la formazione romagnola. Altra formazione che continua a sorprendere è il Genoa di Antonio Filippini, per il Genoa due gol nel primo tempo con una bella prestazione peraltro da parte di Massa e di Bettalli che firmano la vittoria decisiva sul campo delle Brescia, proprio la città che ha contribuito a dare i natali calcistici ad Antonio Filippini. Il Genoa con questa quarta vittoria consecutiva adesso è definitivamente nella zona medio-alta della classifica. Per quanto riguarda invece la parte bassa, la cosa interessante è che tutte hanno fatto punti, è arrivata la prima vittoria del Tavagnacco che ringrazia non soltanto il gol decisivo con Maroni, uno splendido tiro dalla lunghissima distanza, ma ringrazia soprattutto il proprio portiere Sattolo, protagonista di una serie di interventi importantissimi, decisivi, ha parato un calcio di rigore, ha parato un gol praticamente già fatto. Prima vittoria in serie B per il neopromosso Tavagnacco e primo punto in serie B quest'anno anche per il Ravenna che riesce ad impattare uno a uno sul campo del San Marino, Ravenna che resta comunque ultimo in classifica ma muove se non altro la propria graduatoria e questo è sicuramente significativo. Si torna in campo tra sabato e domenica, alcune partite interessanti, lo scontro che poteva risultare fatale alla Ternana è toccato questa settimana, alla Lazio potrebbe toccare domenica. Lazio che giocherà in casa proprio contro il Cesena, un Cesena lanciatissimo, due formazioni che arrivano da una lunga serie positiva, sette vittorie quella della Lazio, sei vittorie quella del Cesena, è uno scontro al vertice, vedremo se il Cesena saprà approfittare di questa opportunità, la Ternana ospita in casa un'altra formazione che si è rilanciata in settimana e che ha vinto nettamente contro l'Arezzo 4-0 nell'anticipo, si tratta ovviamente dell'Ellas Verona. Per il resto le partite sono tutto sommato poco indicative per la classifica, il Genoa punta a un nuovo record, almeno per quanto riguarda la striscia di risultati positivi della formazione rosso-blu, ospitando la San Marino Academy in un incontro che da pronostico vede favorite le grifoncine. Grazie a tutti!